Musica Presidente Gian Mario Balloriani, una a due giorni veramente importante qui a Passo di Treia tanti sforzi, tanti sacrifici ma la resa dei conti è stata un'emozione bella, entusiasmante vedere soprattutto una finale tra due giovanissime Gian Mario si sono molto emozionato per aver visto molto bel gioco da queste ragazze che ci ha fatto molto piacere averle qui ospitate a Passo di Treia ringrazio tutti, quelli che sicuramente mi sono stati vicino, molto, tutti i collaboratori, quelli che mi hanno aiutato in cucina e per fare tutti questi lavori bisogna avere tanta forza di volontà E uno staff oltre che economico anche uno staff di persone che sono insieme a te? Sì sì, uno staff oltre agli sponsor perché senza sponsor non si fa più nulla, ci tra un buon conforto da sotto e i ragazzi sono stati meravigliosi, mi sono stati vicino per circa due mesi perché abbiamo lavorato duramente anche fino a tarda ora abbiamo anche trascurato le nostre famiglie, grazie anche a loro, alle nostre famiglie e a tutti quelli che ci hanno seguito Ti posso dare una notizia importante che qui a Passo di Treia rimarrà una cosa importante che è la finale Major più giovane della storia Sottolineando, ci ne avranno nulli, pruri, vincitrice mondiale e Sofia Pistolesi, campionessa europea quindi avete avuto il meglio del meglio Il meglio del meglio, ce l'aspettavamo questo perché io lo dicevo a queste ragazze voi dovete arrivare al podio Sono contento ma grazie anche a tutte le altre perché ha dato una gioia a tutti vedere tutte queste giocatrici venire a Passo di Treia È stata una partita come diciamo è solito, le partite tra noi due sono sempre belle combattute Diceva il nostro collega Luigi Castignani che è la finale più giovane della storia di una gara Major Eh sì, siamo comunque due ragazze che stiamo crescendo e quindi è una bella soddisfazione Eh sì, diciamo che qui a Passo di Treia ha fatto un bottino pieno perché ieri ricordaci un po' cosa è successo Ieri insieme alla mia compagna Fedora Simoncelli abbiamo vinto l'anteprima gara regionale lei e lei E quindi un bottino pieno, meglio così non poteva andare, questo weekend lo possiamo segnare sul calendario diciamo Assolutamente, meglio di così E ovviamente questa dedica di questi due giorni a Passo di Treia, di queste due vittorie a chi va? Allora alla famiglia, alla mia squadra e al mio fidanzato Luca In compagnia di Pergreffi Luciana, vincitrice di questa gara nazionale sport per tutti qui al Passo di Treia Luciana hai fatto una gara praticamente perfetta perché quando si vince va tutto bene Ok, sì sono molto felice perché è la mia prima gara che vinco anche se è un po' che gioco E ringrazio la mia bocciofila che mi ha sempre sopportato e questa gara la dedico papà che giocava a bocce E grazie a voi perché è stata una bella gara sia ieri che oggi È stata un'emozione unica perché vincere la prima gara è sempre un'emozione che si ricorda Certo, anche perché non è che sono molto costante però oggi si vede che ho mantenuto un po' più la mia costanza Come si dice, nelle occasioni giuste è il giorno giusto È il giorno giusto, sì, condivido E quindi dedichi la tua gara, la tua vittoria a tuo padre? A mio papà perché giocava a bocce, amava molto questo sport A mio papà perché giocava a bocce, amava molto costante